L'Aquila è un suo piccolo primato. La polizia di Stato è stata la prima tra le forze dell'ordine in Italia a ricevere il vaccino. È partita così ufficialmente anche la campagna vaccinale riservata alle forze dell'ordine che riguarderà anche gli insegnanti. I dettagli si stanno definendo in queste ore, ma ciò che è certo è che l'ASL sarà supportata da centri periferici dove effettuare le vaccinazioni. Ieri le prime dosi di vaccino AstraZeneca, 1.300 ne sono arrivate, sono state somministrate a una settantina di persone delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e finanza. Un primo test per valutare anche la tolleranza di questo vaccino dedicato agli under 55. Il primo a ricevere il vaccino per le forze dell'ordine in Italia è stato il capo di gabinetto della Questura, Sandro De Angelis. Sono stato il primo della polizia di Stato, ma anche di tutte quante le altre forze di polizia e delle forze dell'ordine, perché ieri i vaccini appena sono arrivati all'Aquila mi hanno somministrato la prima dose, proprio per continuare quella che era una campagna già iniziata qui, anche dal signor Questore, dall'ufficio sanitario qui, dove anche nel periodo che diceva lei di massima tensione per il Covid, dove c'era un'esplosione di contagi per il Covid, e qui in Questura siamo stati sempre sotto la soglia, non c'è stato mai bisogno di dover chiudere uffici, sempre una campagna attenta alla prevenzione. E questo è stato il secondo step che certifica proprio tutto quanto, la volontà del Questore di andare avanti e di arrivare poi ad avere la massima immunologia nei confronti di tutti quanti, e in questo caso qui per quanto riguarda le forze di polizia e la polizia di Stato. Del vaccino AstraZeneca in Abruzzo arriveranno in totale 27.400 dosi, ma stanno arrivando anche altri 2.340 vaccini Pfizer, che assieme a Moderna saranno usati per iniziare la vaccinazione agli ultraottantenni, che si sono prenotati sulla piattaforma. La data d'inizio è 15 febbraio. Stiamo svolgendo un compito difficile, ci sono, per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica, qui ogni settimana, ma direi ogni giorno, facciamo un'ordinanza attenta e particolareggiata per contrastare questo tipo di pandemia. Le altre forze di polizia che rientrano in questo tipo di ordinanza sono sempre al nostro fianco, quindi stiamo lavorando come squadra, il Questore ci tiene tanto a dire questo concetto di squadra anche con le altre forze di polizia. La Polizia di Stato in particolare sta facendo dell'ottima campagna di prevenzione e questo che è successo ieri a me, insomma, ne testimonia proprio tutto la volontà di poter debellare quanto prima questo virus e di riportarci a quello che eravamo almeno un anno e mezzo fa.